Stasera siamo riusciti a portare via un buon risultato, abbiamo vinto 3-0 in casa contro un'altra squadra che è un progetto giovanile. Finalmente abbiamo visto i miglioramenti che chiedevamo durante la settimana, li abbiamo visti in partita, abbiamo secondo me espresso a tratti una buona pallavolo, ancora un pochettino di nervosismo in alcune fasi di gioco, però questo ci sta nel processo di crescita. Bravi a tutte quelle che sono entrate in campo e adesso pensiamo alla prossima gara in vista a Peschiera che è di sabato. Grazie a tutti.